dicevamo questo è il morso la briglia la mascella eccola qui questa è la testa cioè in definitiva qua ci dovranno essere le orecchie perché è sceso c'è tutto in definitiva si è ripiegato su questo segnato si ricorda l'altro elemento in bronzo quello che era il gancio 74 un busterillo che ha la mostra gli etruschi e pompei quella con la navicella grazie 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 grazie